Che noia, ogni volta che guardo un video di Minecraft non è realistico. Ah, ma io ho un'idea. Se vado su Impostazioni, Qualità, posso mettere 480p. Ah, è diventato più realistico, ma io lo voglio ancora più realistico, sto cavolo di vulcano. Quindi mettiamo la Qualità a 720p 60, per ora diventerà più realistico. Ecco, così è meglio, ma lo stesso non va bene, lo voglio. Super, super, super realistico, regà. Quindi, mettiamo la Qualità a HD, regà. Cioè 1080p 60, regà. Ora, ragazzi, diventerà super, 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 super realistico. E ecco come lo volevo, super, 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 super realistico, regà. E' super bello questo vulcano, regà. Quindi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a farlo diventare HD, questo vulcano. Grazie. Grazie. Grazie.